Grazie e benvenuti in questo nuovo video, sono Ernesto Cei e da quanto che non facevo un video ragazzi, due mesi ragazzi, scusate, ma volevo raggiungere il traguardo dei 30 iscritti, grazie mille ragazzi, non mi aspettavo mai di fare un traguardo, ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, pure Giuseppe, Samuele, Mattia... Vabbè, noi, allora, ragazzi, questa è la mia nuova tastiera, sì, e serve precisamente a giocare, è una tastiera gamer che si può fare le cose gamer che amano tutti i gamers. Ragazzi, scusate, non tengo la piaccia di vita per farvi vedere la mia faccia, ma in compenso potete vedere tutto il resto del computer. Vi ringrazio ancora per i 30 iscritti, cioè ragazzi, non so come ho fatto ad arrivarci, ma non prendiamoci in chiacchiere, vado a scegliere il gioco e vi chiamo quando è pronto. Ragazzi, comunque, questa è una bella giornata per fare un video, però prima stavate sbicciando. Non adesso! Ok ragazzi, The Standard Parable! Ok! Forse l'aspettavate da un secolo e mezzo, non so da quanto l'aspettavate, ma non devi abbassare la voce, mortacci tua! Oggi siamo su The Standard Parable! Ma te vorrei fare la intro? Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Instagram! Nesso c'è i ragazzi, ho scelto questo gioco perché... Porca puttana, se ci giocano tanti e credo che farò dei iscritti, perché questo è lo speciale, 30 fottuti iscritti! Quindi ragazzi, se vi piace questo video, buona visione, perché cazzo è detto poi... Ragazzi, però no, no, non ha un senso! Ok ragazzi, stiamo iniziando a giocare con... Cioè, questo computer di qualità zero... Non questo qua che sto giocando io, ma quello là che è partito all'inizio... Ma che schifo! Intanto ragazzi, dobbiamo andare a trovare... Sto giocando con la tastiera nuova che farà un poco di rumore, ma dovete accontentarvi perché... Boh... Non lo so... Allora... Dove scegliere fra una di queste due porte? Io dico... Io ovviamente scelgo quella la... A destra... A destra... A destra... Perché... Ci partirà Minecraft... Ma perché se vai a sinistra cosa si chiede? Non lo so... Muori! Non lo so... Pasqua! Ehm... Intanto ragazzi, un bel salotto ci vuole... Ehm... Pobbiamo il birra! No! Voglio aprire il tutto scemo... Tutto scemo! Ehm... Sì... Allora... Qua dentro... Qua dentro io non c'è... No! Vabbè ragazzi... Allora... Vado qua perché... Mi sono portato alla cazzo... Alla forza... Ecco... Ehm... Cavolo... Oh cazzo... Oh cazzo... Vabbè intanto che si carica metterò spazio... Ok ragazzi, già siamo arrivati... Ecco qua ragazzi... Non so se... Qua sembra tutto un horror... Sta facendo... Ecco... Ragazzi mi dice... Cazzo... Oh e dove cazzo da andare? Cazzo... Oh ma... Mi fai andare a qualche parte... Portarci lui... Che non si vede niente... Non si vede niente ragazzi... Chi apre sta porta? Apri la porta! Oh ragazzi... Ma che cazzo sta succedendo? C'è questo ci sta facendo luce... C'è il camion... C'è ragazzi... C'è un camion che... Forse... Ho trovato la via all'uscita... Forse... Non lo so... Ma butta sotto! Ok ragazzi... No... 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 Ma sottete le tante... E allora... Dove cazzo tova andare? Mortacci tua... Allora... Mi serve... Telecamera 1... Telecamera 2... Allora... Ci sono... Camera 1... Allora... La camera 1 principale c'è questa... Ma se fai camera 1... Cosa fai? Vinci? Non posso uscire ragazzi... Non posso uscire... Non posso uscire... Non posso uscire... Ok ragazzi... Si sta caricando... Forse sarà Minecraft... Non lo so... Non lo so... Non lo so ragazzi... Non lo so se è Minecraft... Io penso a mangiare... Perché ho visto su YouTube... Eh... Ma potrebbe essere... No... No ragazzi... Ma mortacci tua... Che sei più brutto... Cioè... Ragazzi... Questa è la tele... La prossima volta... Seguo... Sempre quella normale... Cioè... Che usano... Stai a 400... Ok ragazzi... No... Stai a 417... Andiamo ragazzi... Eh... Forse... Eh... Dovremmo andare sempre diritti... Perché... Non c'è una via d'uscita... Allora... Allora... Ho sbagliato... Ho sbagliato di nuovo... Ho sbagliato... Ho sbagliato... Cioè ragazzi... Questa è la seconda volta... Mi apri una porta? No... No... Non mi apri mai una porta... Mortacci tua... C'è un cazzo? Allora... Non so... Che cosa... Scegliere... Ma... Ok ragazzi... Per fortuna... Mi si è aperto una porta... E' un labirinto... Si... Ma è un labirinto? No... Io chiudo questa porta... Non si può chiudere... Eh... Meno male che c'è un'altra via... Ecco qua ragazzi... Forse è questa la via... Perché non si può... Non si può neanche per sogno entrare in questa via... Dici... Cioè ragazzi... Dovevo trovare... Il... Il... Cosa di Minecraft... Questa volta... Questa volta... Io vado qua dentro... Ecco qua... Eccola... Forse è qui che dobbiamo andare... Sì è qui che dobbiamo andare... Perché... Se no non funge... Come cavolo... Ma è un graffo... Orse... No... 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 Non è... Altra volta... Ma... Vaffanculo... Allora... O questo è un rumore della tastiera? penso perché il destino ha perso ok ragazzi dovremmo andare sempre degli ultimi parentesi dovremmo vedere quello che cazzo si sta guardando internet sto vedendo di cose spocche oh che cazzo dici non so dove andare cioè ragazzi questo gioco non immaginate quanto è difficile ma è difficile sto gioco senza le porte ok ragazzi vieni a questa porta no ragazzi per forza dovremmo andare qua dentro ok non c'è nessuna porta qua cioè ma come fai è nel campo degli urogati qui che cazzo è successo ecco qua ecco mi si è aperta di nuovo la porta non so dove potrebbe non so dove potrebbe mai andare non so dove potrebbe mai andare non so neanche io perché ah si l'ho trovata finalmente la strada cioè ragazzi si sta facendo sempre più buio sempre più buio sempre ragazzi sempre qui sempre qui sempre qua ragazzi sempre qua ma prima non portava sta via ho trovato una capatocchia non è che avrei vinto ma cosa è questa esplodiamo è di uscire sì sì porca di quella c'è ragazzi è il primo tentativo che faccio nella mia vita ho vinto ho vinto nooo vabbè ho vinto ragazzi ok ragazzi qua ci sta credi crediti credi ti stai nel ok forse ecco qua ci proviamo la seconda volta forse ci sarà una cosa di strano non saprei ma vabbè ragazzi non ho cambiato niente perché ho visto io ok ragazzi se questo video vi è piaciuto commentate questo iscrivetevi al canale è bella ragazzi ecco qua